Ricontrattualizzazione dei dipendenti ex-contrattisti da part-time a full-time per almeno 35 ore settimanali e stabilizzazione dei lavoratori ASU. Su questo deve concentrarsi l'amministrazione di Gioiosa Marea guidata da Tindara Lagalia. Questo è l'appello lanciato da Nunzio Piccione, RSU, della Funzione Pubblica Cigelle di Gioiosa Marea e dal segretario provinciale Funzione Pubblica Cigelle Messina, Antonino Pizzino, che hanno chiesto la revoca della delibera con la quale l'esecutivo ha approvato il regolamento attuativo in tema di progressioni verticali ed un confronto sull'argomento. Ricordando le buone e proficue relazioni sindacali nei tavoli di contrattazione, sull'argomento all'ordine del giorno niente è stato fin qui trattato in sede sindacale. Da qui la Cigella ha chiesto inoltre con urgenza che l'esecutivo assicuri l'impegno economico perché prioriteriamente possa concentrarsi sulla ricontrattualizzazione dei dipendenti ex-contrattisti da part-time a full-time per almeno 35 ore settimanali e sulla stabilizzazione dei lavoratori ASU Per un'altra avvertenza, quella del piano di utilizzo del demario marittimo, dopo che è stato prorogato l'incarico per Gaspare e Giuseppe Motisi, quale commissario ad acta, il Comune, proteso verso l'adozione di questo importante strumento di programmazione, ha nominato come RUP il geometra Pietro Incognito, responsabile del settore tecnico comunale su urbanistica e manutenzione.